Elemento della natura, semplice quanto prezioso, comprendere la vera essenza dell'acqua è tutt'altro che banale. Un bene da preservare, spesso minacciato dall'indifferenza e dall'incuria dell'uomo. Non da tutti però, come hanno potuto vedere coi propri occhi due ragazzi romani che all'acqua hanno voluto dedicare un intero lavoro. Noi abbiamo pensato di fare un prodotto che fosse accessibile a tutti, che avesse un taglio leggero e giovane come noi, per sensibilizzare l'intera popolazione. Innalzamento del livello dei mari, inquinamento delle falde acquifere, variazione delle precipitazioni. Problemi che spesso restano sommersi e che quest'inchiesta vuole riportare a galla, attraverso le voci di esperti, attivisti che si battono per la tutela ambientale, ma anche semplici pescatori e contadini che dell'acqua ne fanno una ragione di vita. È un mondo fatto di persone che hanno dei valori comuni e condivisi. Tutte le persone che abbiamo incontrato ci hanno dato lo stesso identico feedback, ossia che tutti insieme si può fare qualcosa di grande e di importante. 15 regioni attraversate da nord a sud per comprendere quale sia lo stato dell'acqua in Italia. Controcorrente, questo è il titolo del progetto indipendente finanziato solo col crowdfunding, più che un documentario è un'esperienza di vita.